amici di youtube ben trovati da marco liguori segnaliamo un gravissimo incidente un incidente in autostrada tra bologna e casalecchio ironia della sorte non è la prima volta che segnaliamo un incidente in quel tratto un 63enne ha perso la vita in seguito al tamponamento tra un furgone e un auto articolato io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video ciao a tutti